Sono purtroppo già partite le lettere per i 18 licenziamenti alla Manifattura del Casentino e così per mercoledì i sindacati hanno organizzato un'assemblea dei lavoratori di fronte allo stabilimento di soci. La Manifattura, sotto pressione della curatella, ha purtroppo fatto quanto previsto, annuncia Alessandro Mugnai della Fichtem CGL. E quanto sia noi che la prefetta Maddalena De Luca avevamo chiesto di non fare oggi per poter individuare una soluzione che garantisse la salvaguardia dei posti di lavoro ma anche dell'intera produzione. La vertenza prosegue, a questo punto non è più solo di una categoria ma dell'intera confederazione. La provincia di Arezzo, sottolinea poi il segretario Alessandro Tracchi, continua a registrare vertenze che non avrebbero motivo di esistere. Prima la FIMER, impegnata in un settore in fortissimo sviluppo, adesso la Manifattura del Casentino che produce un prodotto, il panno del Casentino, assolutamente unico in una fase di ripresa dell'intero settore tassile italiano. Fichtem e CGL hanno già organizzato l'assemblea dei lavoratori per mercoledì prossimo nello stabilimento di Soci, la cui vendita pare l'unica ragione delle cessazioni della produzione. Si apre dunque una vertenza in piena coerenza climatica, conclude Tracchi, sarà infatti lunga e soprattutto calda.